È il tema centrale della campagna elettorale che il prossimo 25 settembre culminerà con le elezioni politiche. Il caro energia, aziende, imprese piccole e medie e famiglie fanno i conti con l'aumento delle bollette. Fin qui i rincari sono stati evidenti soprattutto per l'energia elettrica, ma l'arrivo dell'autunno evidenzierà la variazione del costo anche delle forniture di gas. Le posizioni dei partiti sono variegate, a cominciare dal centro-destra. Chiedo un intervento immediato per bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas. Il Pisano Letta pare non capirlo, ma penso che la bolletta la paghi anche lui, la paghino i suoi sindaci. Di bloccare questi aumenti si può salvare posti di lavoro. Tutto il resto viene dopo. Chi dice di no o vive un'altra realtà, o non va a fare la spesa, o non capisce che siamo di fronte a un secondo Covid. Non fa eccezione. Nemmeno il terzo polo di Calenda e Renzi, che vuole insediarsi fra le forze date come avvantaggiate per la vittoria delle elezioni. Il tema vero dell'energia è come essere più autonomi possibili rispetto a paesi esteri. E quindi il tema è le infrastrutture. Il rigassificatore, l'energia rinnovabile, le pale eoliche, i pannelli solari. Certo è che questo paese deve darsi una regolata. Vuole l'energia rinnovabile, non vuole dipendere da altri paesi? Non può nascere un comitato per ogni rigassificatore, per ogni parco eolico, per ogni campo di pannelli solari. L'energia ne abbiamo bisogno o viene dalle infrastrutture o viene da paesi esteri. Abbiamo ben compreso rispetto a questi aumenti che dobbiamo essere autonomi.